Se ti stai chiedendo come mai il tuo impianto di riproduzione sonora suona diversamente, in particolare sulle basse frequenze, a seconda della posizione di ascolto, quei bassi che sembrano andare e venire, beh, hai scoperto l'importanza dei nodi e modi di risonanza. I nodi e modi di risonanza sono estremamente importanti in un ascolto in un ambiente, sia che si tratta di un ascolto hi-fi che di un impianto professionale, e sono presenti in ogni ambiente chiuso, cioè circondato da pareti. Ad esempio, anche gli strumenti che ascoltiamo, la chitarra, il flauto, l'organo, suonano grazie alle proprie risonanze interne. Ma se in uno strumento le risonanze sono importantissime e viceversa non suonerebbero, nella nostra stanza questo è un problema, la nostra stanza non deve suonare o meglio non deve risuonare. Vediamo quindi cosa sono questi nodi e modi di risonanza, giusto per conoscerli. Allora, seguendo gli altri video, ormai dovremmo aver imparato che un autoparlante, in particolare woofer, stiamo parlando più che altro dei bassi frequenze, un woofer emette la sua onda di pressione, la sua onda sonora, a varie frequenze, ogni frequenza ha una lunghezza d'onda. L'onda, ripetiamo, è quell'intervallo che intercorre tra una cresta, un ventre e un ritorno alla sua cresta, quindi una sinusoide che ha proprio una forma di onda. Quest'onda viene emessa dal woofer, dicevamo, e inevitabilmente prima o poi incontrerà la parete di fondo della stanza nella quale sta suonando. E purtroppo, anche se state cercando di fare il possibile per assorbirlo, questa onda tornerà indietro. Tornando indietro va a incrociarsi con la stessa onda che sta provenendo in avanti e due onde con delle creste, degli avalamenti, con dei massimi, dei minimi, con delle creste appunto dei ventri, possono o sommarsi se coincidono le loro creste o annullarsi nel caso che creste e ventre si vadano a sommare, dando come risultato zero. E ovviamente tutte le possibilità intermedie. Vedete qualche cosa del genere graficamente nelle figure che ci sono qui alla mia destra, alla vostra sinistra. Quello che state vedendo è un esempio di una sola frequenza. Ovviamente non lo possiamo vedere per tutti i range di frequenze contemporaneamente, quindi gli esempi che vedete sono relativi ad una sola frequenza, ma credetemi, questo è assolutamente vero per tutte le onde, anche fuori dal campo audio. Beh, come notate da queste figure ci sono dei punti particolari in questo incrocio tra l'onda che avanza e l'onda che torna indietro. Ci sono dei punti appunto particolarmente importanti dove la somma è uguale a zero e si tratta dei famosi nodi. E ci sono degli altri punti dove la frequenza in realtà raddoppia perché si sommano le sue onde che si chiamano internodi o anche con altri nomi. Beh, se stessimo quindi ascoltando quella sola frequenza d'onda e voi vi provate a spostare nella stanza, sentirete che ci saranno dei punti dove questa frequenza non la sentite assolutamente e degli altri dove invece viene raddoppiata. Possiamo fare un esperimento simile al contrario. Alla fine di questo video, lo metto alla fine perché se no adesso vi obbligherei a sentirlo, alla fine del video, dicevo, metterò una sweepata, cioè una spazzolata di frequenze dai 20 Hz fino ai 100, 150, 200, che gradualmente salgono e voi potreste sperimentare, stando fermi nel vostro punto di ascolto, magari con una sola cassa accesa, meglio che con due, se no i punti non coincidono, e scoprireste che nonostante la spazzolata sia estremamente continua e nessuno sta alzando e abbassando il volume, scoprireste che in qualche momento non sentirete sufficientemente bene la frequenza che vedrete invece sullo schermo e in altri punti invece la sentirete molto più forte, come se ci fosse appunto qualcuno che sta alzando e abbassando il volume di questa spazzolata audio, in realtà state assistendo i nodi di risonanza della vostra stanza. Beh, sembrerebbe drammatica questa cosa, beh, nella mia stanza, in questa posizione, non sento quella frequenza. In teoria è vero, ma attenzione, ricordiamoci una cosa, quello che stiamo vedendo è relativo a una frequenza, diciamo 100 Hz, la stessa cosa avviene per i 200 Hz e per i 150, ma anche per i 101 Hz e i 102 Hz, ma anche per i 100,01, 0,2, 0,3, 0,4, quindi quello che sembra essere un problema invece è un insieme di così tante problematiche che alla fine non risulta più così grave questa faccina dei nodi di risonanza. Anche perché c'è la questione dei modi. Se infatti abbiamo visto che cos'è un nodo, quindi un punto particolare che ha a che fare con la lunghezza d'onda e la lunghezza della nostra stanza, sappiate che ad esempio ci può essere la stessa cosa per una frequenza doppia e i nodi a questo punto non saranno più uno, ma saranno due, quattro. Ma c'è una complicazione ancora di più. Quest'onda non corre solo in questo senso, cioè lungo la parete di fondo di cui abbiamo accenato prima, ma ci saranno onde stazionali, ci saranno nodi anche in modo orizzontale, anche in modo verticale, anche in modo diagonale, vedete sempre nella figura qualche rappresentazione di questo tipo. Capite che ogni punto dello spazio è talmente pregno di queste problematiche in fondo relative alla diffusione sonora di basse frequenze in ambienti chiusi che alla fine risultano quasi rilevanti. Ho detto quasi rilevanti perché il problema in realtà c'è, in particolare nelle stanze simmetriche, con misure uguali o molto simili fra di loro, oppure esattamente il doppio l'una dell'altra, quindi lunghezza, altezza e larghezza sono moltipli l'uno dell'altro. In questo caso questa disomogeneità dei problemi si concentrano invece in alcuni punti particolari e allora sì che ci saranno dei punti del vostro ambiente dove vi accorgereste che non sentite una parte di basso e altri dove li sentite molto di più. Tralasciamo da questo discorso gli angoli, perché in realtà sono punti particolari dove questo discorso dei nodi, dei modi di risonanza prendono una valenza leggermente diversa. Quindi abbiamo visto che i nodi sono dei punti dove le frequenze di una particolare lunghezza, in concomitanza con una particolare lunghezza della nostra stanza, si sommano annullandosi fra di loro in uno o più punti, uno o più nodi. I modi di risonanza invece sono tutte le possibilità di onde stazionari, di onde che si incrociano fra di loro relative al nostro ambiente, sull'asse dell'X, sulle Y, sulle diagonali e chi più ne ha e più ne metta. Queste risonanze possono diventare talmente complicate che ad esempio ci sono alcuni algoritmi che tentano di farli vedere, come in questo caso, o in quest'altro. E guardate bene, quello che vedete sono solo nodi e modi di risonanza su un ambiente orizzontale, non tridimensionale. Figuratevi quanto è complicato nel nostro ambiente di ascolto. Ma se sono così importanti e incidenti nella qualità dell'ascolto, in particolare abbiamo detto sulle basse frequenze, perché non se ne parla tantissimo? Beh, perché non sono paganti, perché non è una cosa la cui soluzione si può comprare. In realtà esistono delle trappole per i bassi, da mettere, guarda caso, proprio negli angoli, che parzialmente risolvono il problema, ma non lo eliminano. Cioè dovremmo andare in un negozio di alta fedeltà e comprare una stanza con delle misure completamente disomogenee fra di loro, disarticolate, non parallele. È chiaro che riviste e negozi non camperebbero molto, quindi non se ne parla tantissimo, ma è veramente una questione importante. E quindi che fare? Beh, abbiamo detto dotarsi di trappole per i bassi, oppure cercare con l'arredamento di variare il più possibile le simmetrie. Beh, questi sono ad esempio due accorgimenti che miglioreranno il vostro ambiente di ascolto sicuramente di più del comprare una coppia di cavi molto costosa. Ma l'alta fedeltà sappiamo che è una passione, quindi la razionalità spesso lascia spazio alla emozione e al culto dell'oggetto. Ovviamente il discorso sui nodi e modi non è per niente sviscerato appieno, si tratta di una questione estremamente complicata, che viene affrontata anche in ambiti estremamente elevati. Ad esempio nella meccanica quantistica si parla anche in quel caso di fessure, di nodi e modi di risonanza. Noi accontentiamoci di capire che cosa sono, non stupiamoci più se in un certo punto non sentiamo i bassi, ci sposteremo un pochettino cercando di compensare questo problema, e godetevi il vostro impianto e se possibile gli altri video del nostro canale, che è www.ilmicrofono.it a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.